Ringrazio dell'invito, ringrazio della possibilità di essere anche quest'anno qui all'Università di Catanzaro per discutere sui temi della libertà in definitiva. Il tema che mi è stato affidato quest'anno, come già ricordava l'Avvocato Scoppa, liberalismo, quello vero e quello falso, chiaramente richiama Hayek nel titolo, perché Hayek scrisse un famoso articolo in cui distingueva tra individualismo vero e falso. Come prima ricordava l'Avvocato Scoppa, in Hayek, questo importante autore del Novecento, questo economista, ma poi anche filosofo del diritto, filosofo politico del Novecento, c'è una distinzione molto netta tra un liberalismo che lui riconduce alla tradizione anglosassone e quindi un liberalismo di tipo evolutivo che crede nelle istituzioni come un risultato di un processo non voluto, quindi come un qualcosa che sfugge alla pianificazione di questo o quel soggetto e invece un individualismo e quindi anche un liberalismo razionalista, più continentale, tipicamente francese, che avrebbe appunto dei connotati molto razionalisti, cioè che si baserebbe su una forte enfasi sulla ragione umana e quindi sulla possibilità da parte dell'uomo di conoscere la realtà, la realtà sociale, sapere quello che va bene per questo o quel gruppo sociale e così via. Nella distinzione che fa Hayek, soprattutto conoscendo quali erano le sue grandi passioni, gli autori che particolarmente amava e gli autori invece che particolarmente considerava pericolosi o comunque lontani dalla propria ispirazione, appare di tutto evidente che quando Hayek parla di tradizione evolutiva anglosassone, lui stia pensando soprattutto agli scozzesi, pensa a Hume contro Voltaire ad esempio, a due illuminismi molto diversi, l'illuminismo scozzese e l'illuminismo invece è francese, ma pensa anche ovviamente da economista a un autore come Adam Smith, altro filosofo morale appunto scozzese, oltre che padre dell'economia e in generale pensa dall'altro lato invece a tutta la tradizione razionalista, sia francese che tedesca. Ora, quella distinzione in Hayek è una distinzione classica che io credo abbia qualche punto di forza, credo che poi quel tipo di riflessione abbia trovato eco e comunque consonanze anche indipendenti dallo studio che Hayek ha fatto in altri autori importanti al Novecento, penso appunto, si è citato prima tra le righe Popper, sul fallibilismo, quindi sul fatto che la nostra conoscenza è per forza di cosa sempre fallibile, ma anche un altro autore molto interessante, un autore inglese, Michael Okshot, che ha scritto un bellissimo saggio, recentemente tradotto anche in italiano, che si intitola Il razionalismo in politica e che è un testo molto critico nei riguardi appunto, da un lato del razionalismo, quindi nella prima parte del saggio parla di Francis Bacon, di Bacone, di Cartesi, ma poi soprattutto della traduzione di quel tipo di pensiero in ambito politico, cioè la pretesa di conoscere in maniera definitiva, certa, una serie di cose, di costruire a partire dalla società. Bene, credo che l'analisi di Hayek sia interessante, credo anche però che sia per certi aspetti contestabile la riflessione di Hayek, perché? Perché se c'è sicuramente, per riprendere appunto il titolo, un'espressione forte di Hayek che è stata usata anche come titolo di un suo libro nella traduzione italiana, quantomeno, se c'è un abuso della ragione, e Hayek sottolinea questo fatto, che noi tendiamo ad abusare della ragione, cioè a fare un uso non corretto della nostra ragione, ad attribuire alla nostra ragione delle capacità, delle potenzialità che la ragione non ha, la nostra ragione appunto è limitata, credo però che ci sia anche, e questo è il punto, mi pare, di debolezza della prospettiva di Hayek, se volete, un abuso del dubbio, no? Cioè credo che se c'è un errore razionalista può esserci anche un errore scettico, un errore come dire che può essere bene espresso da chi non comprende l'importanza, il ruolo, la forza che può avere la ragione umana. Quindi se è vero da un lato che si può arrivare ad esiti illiberali attraverso un'eccessiva esaltazione della ragione umana, è altrettanto vero che si può arrivare a esiti illiberali attraverso un discredito della ragione umana, perché è una prospettiva scettica, è una prospettiva poi che pone ben pochi argomenti a tutela delle nostre libertà. Se non siamo in grado di esprimersi con ragionevolezza, con una ragionevole convinzione in difesa di nulla, è chiaro che anche le nostre libertà e i nostri diritti sono evidentemente molto fragili, esposti a qualunque tipo di aggressione. D'altro canto, se guardiamo poi la tradizione del liberalismo, se guardiamo la storia del liberalismo, i quadri concettuali di Hayek non funzionano esattamente, perché? Perché un autore fondamentale per il liberalismo, un autore da cui non si può prescindere, come John Locke ad esempio, non era affatto un autore scettico o relativista, anzi aveva una forte comprensione del ruolo della ragione umana. Un altro autore fondamentale, il maestro di Hayek stesso, Ludwig von Mises, aveva una forte idea della ragione umana. Tutta l'azione umana, il suo testo più importante, è costruito a partire da alcuni principi, alcuni assiomi che sono considerati come assolutamente certi, a partire da lì c'è una costruzione molto solida. E d'altro canto anche la collocazione geografica dei due individualismi o dei due liberalismi non funziona perfettamente, nel senso che all'interno ovviamente della tradizione anglosassone troviamo autori che Hayek e i liberali classici non riconoscono come appartenenti alla propria scuola e tradizione, penso a John Stuart Mill ad esempio, e invece all'interno del mondo francese e in parte anche in quello tedesco troviamo molti autori veramente liberali, fondamentali per il liberalismo, pensate solo a un economista come Jean-Baptiste Sey o anche Frédéric Bastiat e così via, per non parlare di Constant, Tocqueville eccetera. Quindi la distinzione interessante offre alcuni spunti importanti, la riflessione di Hayek è ovviamente utile, ma la mia idea di ciò che è liberale e ciò che non è liberale, degli autori che sono liberali e che non sono liberali, segue un'altra prospettiva rispetto a quella che Hayek traccia e nel libro Liberali e non credo che emerga con una certa chiarezza. Devo dire anche qualcosa su come è nato questo libro, questo libro ha avuto un'origine un po' occasionale, perché una rivista indirizzata ai professori delle scuole superiori, la nuova secondaria, mi aveva chiesto un paio di anni fa di preparare dei medaglioni, delle presentazioni di alcuni autori del pensiero politico e mi aveva chiesto di presentarli a coppie, di presentarli in bianco e nero, in contrasto. Dopo 15 di queste puntate, arrivati a 30 autori, gli stessi responsabili di questa rivista hanno detto che tutto sommato è venuta fuori una storia, quasi una storia del pensiero politico, potremmo riunire questi articoli e fare una specie di libro. Difatti questa è l'origine del libro, è un libro che non ho mai scritto in qualche modo come libro, ma che mi sono trovato tra le mani dopo questo lavoro, che è una specie di spada di Damocle mensile che mi imponeva di far pervenire tutti i mesi due ritratti di due autori fondamentali. È ovvio che anche per questo motivo, per la scelta di contrapporre i vari autori, per cui un capitolo è dedicato, già è stato detto, ad esempio a Hayek e Keynes, oppure un altro capitolo è dedicato a Locke e Hobbes, un altro capitolo a Marx e Tocqueville e così via, John Stuart Mill e Spencer. È chiaramente un libro molto idiosincratico, cioè molto legato a una mia posizione personale, sia nella scelta degli autori, alcuni dei quali non sono per nulla famosi, sia per il modo in cui li tratto, perché chiaramente è un libro in questo senso molto partigiano, sia nelle scelte dei personaggi che nella trattazione degli stessi. Ad esempio c'è un capitolo in cui da un lato tratto un autore che ha una certa notorietà, cioè Bakunin, che è una figura importante dell'anarchismo ottocentesco, autore russo che poi ha avuto anche un certo ruolo nella storia italiana, c'è anche un romanzo di Bacchelli, Il diavolo a Ponte lungo, in cui si racconta i suoi tentativi di insurrezione anarchica in Italia e così via. A Bakunin contrappongo un autore che pochi conoscono in Italia, cioè Lisanne Spooner, che è un anarchico individualista liberale americano, proprio per cercare di mostrare come le tesi dell'anarchia possono essere state lette in senso antiliberale da un autore come Bakunin, ma anche Kropotkin e altri, e invece in senso fortemente liberale da alcuni autori, non solo Spooner, oltre Atlantico. Quindi questo libro è composto da coppie da autori, in qualche caso si tratta di liberali e non liberali, per cui il primo capitolo ad esempio è dedicato a Colbert e Adam Smith, è chiarissimo che Adam Smith è un autore importante per la tradizione liberale e Colbert evidentemente no, è uno dei costruttori in ambito economico dello Stato assoluto, ma in altri casi si tratta invece di contrapporre appunto autori che io considero liberali, davvero, e autori che sono normalmente considerati liberali, ma che io non considero tali. Per cui a questo punto si entra davvero in, per certi aspetti, si è costretti a discutere cosa sia il liberalismo e in maniera direi ancora più interessante cos'è la libertà. Ed è chiaramente un conflitto di tipo in parte culturale, se volete di filosofia politica, cos'è il liberalismo, cos'è la libertà, in parte anche come vedremo un conflitto terminologico, cioè c'è attorno a alcune parole da tempo una battaglia, perché la parola libertà chiaramente è una parola che piace, che piace in generale, ma che piace poi a chi si occupa di questi temi, la lettura che si dà di questo tema, di questo termine concetto è evidentemente molto diversa. Quindi si tratta di capire il liberalismo come teoria della libertà, come deve essere inteso, a quale liberalismo in qualche modo noi possiamo rivolgerci con interesse oggi per affrontare i problemi del nostro tempo. Chiaramente è un conflitto anche teorico, nella parte finale della mia relazione mi soffermerò brevemente sulla questione, ed è anche un conflitto storico, questo di fatto è un testo di storia del pensiero, di storia della dottrina, che cerca appunto di individuare al di là delle autodefinizioni, che cos'è il liberalismo e quindi in qualche modo che cosa non è liberale, che cosa magari pretende di essere liberale e secondo me evidentemente tutto va sempre inteso a partire dalla formula, secondo me non è liberale. Allora mi rifaccio un po' alcune dei temi che i vari autori obbligano a prendere in considerazione. La prima questione è forse la più pesante nel nostro tempo quando si parla di liberalismo, soprattutto per il ruolo che ovviamente era cultura anglosassone, quindi inglese a partire dall'Ottocento, ma poi americana a un certo punto, ha avuto nella società occidentale e in generale nel mondo. La questione decisiva è che in Europa tradizionalmente a partire dall'Ottocento, l'anno dopo il 1799, l'anno prima il 1801, si è cominciato in Spagna a parlare di liberalismo, la parola appare, ma quando la parola appare fondamentalmente, nell'arco di qualche anno, qualche decennio, questo termine sta ad indicare una teoria volta a proteggere la società, gli individui, le comunità spontanee dal potere dello Stato e ancora oggi quando si parla di liberalismo in Europa fondamentalmente ci si riferisce a questo. Nel mondo americano però, nel mondo inglese e poi nel mondo americano, la parola liberalismo, cioè la versione appunto in inglese di questo termine, ha presto assunto un significato diverso. Per usare una formula di Giovanni Sartori potremmo dire che per certi aspetti i liberals americani sono i socialisti di un paese che non ha conosciuto il socialismo. in larga misura durante le campagne elettorali il candidato dei democratici si sforza di convincere l'elettorato di non essere un liberal, cioè di non essere un pericoloso estremista di sinistra, appunto per cercare di conquistare voti moderati, voti del centro. Cosa è successo allora dal punto di vista terminologico nel momento in cui essere un liberal in America vuol dire essere un fautore di un forte intervento dello Stato, fondamentalmente un avversario della civiltà di mercato occidentale e così via, molto spesso. Che quello che in Europa viene chiamato liberalismo, un aggettivo liberale, in America nella tradizione di lingua inglese è individuato attraverso altri termini. Un termine è liberalismo classico, classico del liberalismo, come dire c'è questo liberalismo moderno, ma una volta il liberalismo stava a indicare altre cose, al tempo di Jefferson, al tempo di questi autori stava a indicare la tutela della proprietà privata, della libertà di scambio, diritti individuali e così via. oppure autori che non riconosceremo liberali, come liberali per loro idee, fondamentalmente per loro visione, alcune volte si definiscono conservative, cioè conservatori. Conservatori di cosa? Conservatori di una società liberale che dopo New Deal, dopo tutta una serie di cose ha perso molti dei suoi tratti. Un altro termine che è emerso nel mondo di lingua inglese a indicare quello che da noi tutto sommato continua a essere indicato attraverso il termine liberale è libertaria, libertarianismo, cioè la traduzione italiana è libertario, poi è difficile tradurre queste cose. Questo sarebbe grosso modo quello che è successo a livello terminologico nel mondo di lingua inglese, le cose però sono complicate anche da noi sempre di più, perché? Perché è ovvio che l'uso del termine liberalismo nel mondo anglosassone a indicare posizioni che oggi non riconosceremo come di sinistra, di forte intervento dello Stato, di redistribuzione tendenzialmente egualitarie, non può non aver conseguenza anche sul nostro lessico. D'altro canto, se pensiamo al più importante, probabilmente il più importante filosofo politico, espressione di questa tradizione, cioè John Rawls, dobbiamo tenere presente che quando si decise di tradurre in italiano, come era importante fare, ci mancherebbe, John Rawls, i suoi articoli e poi anche una teoria della giustizia, che il suo testo fosse più importante, la scelta terminologica che fu fatta di fronte al termine liberal e liberalismo fu quella appunto di scegliere liberale e liberalismo. Sebastiano Maffettone, che è appunto un filosofo politico italiano, quando traduce Rawls e quindi introduce questi temi nel nostro dibattito, usa il termine liberale e liberalismo per indicare appunto il liberalismo. Questo chiaramente è un problema molto serio, non solo come dire lessicale, ma anche come dire concettuale, ed è un problema comunque che ha radici profonde perché la difficoltà a distinguere il liberalismo classico, cioè che crede nella proprietà privata nello scambio e pensa che le istituzioni debbano porsi essenzialmente il compito di tutelare questo, è invece un liberalismo che crede in un forte intervento dello Stato, redistributivo, organizzativo a fine ugualitaria, non è qualcosa di recente in realtà, perché se già leggiamo, dicevo già prima, John Stuart Mill, c'è un autore fondamentale della cultura inglese dell'Ottocento, quel tipo di prospettiva nuova di questo liberalismo moderno che viene apattico al socialismo è già del tutto evidente, per cui al di là della questione terminologica c'è una questione sostanziale proprio di qualcosa che è successo non solo nella cultura anglosassone, ma nella cultura occidentale in generale. C'è stato un declino progressivo del liberalismo, in senso proprio, del liberalismo classico e l'avvento appunto di una visione dello Stato, della politica, del potere e tipo diverso. Questo è un primo problema, probabilmente la questione decisiva di fronte alla quale ci troviamo, non solo terminologicamente, ma sostanzialmente. Poi come giustamente già vocava l'Avvocato Scopo c'è un'altra questione, una questione non solo italiana, ma particolarmente italiana è quella legata, non già in questo caso al ruolo dell'intervento dello Stato anche, ma proprio all'idea di libertà che deve essere alla base del liberalismo. Perché? Perché l'avvento dell'idealismo a partire dall'Ottocento, a partire da Heger in particolare, ha generato nel mondo anglosassone, nel mondo inglese, con autori come Hobhouse e Green, ma anche da noi con un autore fondamentale appunto come Benetto Croce, un'idea di libertà molto lontana rispetto all'idea di libertà proprio del liberalismo classico. Quando il liberalismo non ha più come obiettivo la tutela della autonomia della persona come soggetto proprietario, come soggetto in grado di avere contratti con gli altri, di scambiare e così via, ma invece si propone l'obiettivo di una liberazione in senso forte, come può essere intesa appunto dall'idealismo, è chiaro che il liberalismo finisce per assumere tratti molto diversi. Allora, se prendete ad esempio un testo che ha avuto nel passato una grande influenza sulla nostra cultura, cioè la storia del liberalismo europeo di Guido De Ruggero, che già nel titolo è interessante per la nostra discussione, perché parla di storia del liberalismo europeo, ebbene De Ruggero da croce, da crociano scusate, pone al centro della sua riflessione un autore come Hegel, Hegel come grande campione appunto del liberalismo, ciò che è abbastanza per certi aspetti imbarazzante e invece non pone attenzione per quelli che il liberalismo classico considera autori fondamentali, anzi in qualche caso ci sono perfino toni denigratori nei confronti di autori fondamentali, uno lo citavo già prima, come Federico Bastiat ad esempio. Ed è chiaro che la polemica già prima ricordata tra Croce e Inaudi affonda appunto le proprie radici in quest'idea. La libertà perde la sua concretezza specifica, che il liberalismo classico aveva sempre individuato, per diventare invece una sorta di liberazione profonda, con una sorta di senso metafisico di libertà, un senso religioso anche della libertà, non a caso Croce parlerà di una religione della libertà, creando una sorta di metafisica appunto del liberalismo che ben poco ha a che fare con il liberalismo in senso proprio. ma il liberalismo ha avuto anche problemi su altri fronti. Prima vi ricordavo che nel 1800 in Spagna emerge la parola liberalismo, cioè un autore come John Locke, che noi consideriamo fondamentale per il liberalismo, non poteva dirsi liberale perché mancava la parola ad esempio, essendo un autore appunto di secondo 600. Quando il liberalismo appare, fondamentalmente il liberalismo è una dottrina che si pone a tutela della persona e delle sue organizzazioni naturali, la famiglia, le comunità locali e così via, ma presto la libertà viene concepita in termini molto diversi. Anche in Italia, ad esempio, se voi guardate il dibattito degli anni 20-21 o degli anni 30-31 con i moti e il dibattito del 1948, voi vedete che il cambiamento è molto rilevante, perché? Perché in una prima fase di quella che viene chiamata oggi l'età risorgimentale, la questione cruciale è una questione di garanzie, si tratta di chiedere gli statuti fondamentalmente, cioè di limitare il potere. A un certo punto il linguaggio cambia e il senso stesso dell'operazione cambia, la libertà non è più la libertà delle persone o dei gruppi associati, le famiglie eccetera, si tratta di liberare la collettività nazionale, c'è quindi uno spostamento significativo di centralità, dalla persona a un soggetto che è sovraindividuale e che non ha più molto poi a che fare con la libertà intesa in senso classico. A un certo punto il liberalismo diventa una libertà collettiva dei popoli e non a caso noi parleremo a un certo punto di Stato liberale, la grande esperienza dello Stato nazionale liberale. E in questa fase, attenzione, succede anche qualcosa in parte distinto rispetto a quello che ho detto, perché? Perché quella fase che vede l'individuo in qualche modo declinare e invece la collettività nazionale imporsi, noi abbiamo anche una tensione crescente tra la dimensione religiosa, le tradizioni religiose e la tradizione liberale sempre più intesa in senso secolare. Si afferma l'idea che il liberalismo è essenzialmente una visione volta a secolarizzare la società. E qui quindi arriviamo a un altro punto, a un altro equivoco, io credo, è quello che sto presentando in qualche modo sugli equivoci, legati al liberalismo. Il liberalismo è inteso come liberalismo all'anglosassone oggi, o inteso come idealismo, o inteso come patriottismo, nazionalismo, o inteso appunto come laicismo, secolarizzazione e così via. Perché? Perché c'è tutta una serie di autori che vedono appunto nel liberalismo che cosa? Un processo di neutralizzazione delle istituzioni. In particolare c'è un testo che tra l'altro ora è pubblicato da un importante editore calabese, c'è Rubettino, un autore francese che si chiama Pierre Manin, che si chiama Storia del liberalismo, che parte non a caso da Machiavelli, che poi tratta Hobbes e poi insiste molto non a caso su Constant, perché? Perché in questa storia bizzarra del liberalismo l'elemento essenziale è che sarebbe liberale ciò che va a creare una distanza sempre maggiore tra le istituzioni e tutto ciò che appartiene in definitiva all'ordine della tradizione etico-religiosa. Ciò che progressivamente edifica delle istituzioni che hanno nulla a che fare con quelle che sono le tradizioni particolari evidentemente in Europa cristiane e specificamente direi trattandosi un autore francese, eccetera, cattoliche. Ecco, io credo che queste versioni del liberalismo che vi ho ricordato brevemente siano scorrette e molti degli autori che io identifico come non liberali, anche se magari si effiscano tali, esattamente si collocano in questa prospettiva. E come io intendo in questo testo il liberalismo o il liberalismo classico, per usare questa formula, essenzialmente lo intendo come una sorta di resistenza e reazione, se volete, di fronte allo Stato moderno. Io in questo testo sono molto esplicito nel dire che non è pensabile il liberalismo al di fuori della modernità europea fondamentalmente. Perché? Perché il liberalismo è una dottrina politica che ha un suo senso, che ha una sua ragione d'essere, di fronte all'avvento di questa entità del tutto nuova, che è appunto lo Stato moderno, che a partire da una serie di episodi storici evidentemente e anche a partire da una serie di esperienze intellettuali, da Bodena, Opsi e così via, si definisce come sovrana rispetto alla società. Ebbene, nella lettura che ne do io, il liberalismo è questa resistenza della società di fronte alle pretese sovrane, le pretese sovrane di un singolo, di una casata inizialmente e successivamente le pretese sovrane di qualcuno che si, come dire, candida a interpretare la collettività nel suo insieme, cioè i parlamenti, la collettività e così via. E in definitiva quindi per me il liberalismo classico è la teoria politica della resistenza della società di fronte al potere. Una resistenza che ha delle logiche ben precise, che si concretizzano nella tutela della proprietà di fronte all'esproprio, del mercato di fronte alla regolazione. Il potere tende a progressivamente espropriare, il potere tende progressivamente ad asservire. La proprietà e il mercato sono appunto le aree dell'autonomia della persona e della società. E nella mia lettura il liberalismo ha una prospettiva molto realista, fondamentalmente, una prospettiva antiutopica, cioè che accetta il reale per com'è, non immagina, come dire, di raddrizzare il legno storto, per usare l'immagine di Kant, non ha bisogno di uomini, angeli o cose di questo tipo, ma proprio perché parte da un'anasi realista di quello che è l'uomo, di quell'impasto curioso di bene e male che è ognuno di noi, afferma in maniera molto netta la necessità di rigettare ogni forma di dirigismo, ogni forma di pianificazione, ogni forma di celebrazione dei poteri pubblici, proprio perché siamo uomini di noi, ma sono uomini anche, evidentemente, quanti sono chiamati nelle nostre istituzioni a dirigerci, a pianificare la nostra vita e così via. Quindi nella mia lettura il liberalismo è tipicamente moderno, è solo moderno, non ha senso, a mio parere, parlare di un liberalismo ad Atene o un liberalismo a Roma o nel Medioevo e al tempo stesso, per certi aspetti, il liberalismo è antimoderno se noi consideriamo come tratto cruciale della modernità e forse come tratto più caratteristico della modernità, l'affermazione, il trionfo dello Stato. E quindi il Medioevo non può essere in nessun senso liberale perché non c'è lo Stato, ad esempio. Nell'ordine medievale, un ordine complesso, fatto di città, di feudi, imperatore, chiese, eccetera, nel momento in cui lo Stato che è moderno, lo Stato sovrano non esiste, c'è un problema di libertà se volete a vari livelli, ma non c'è un problema di liberalismo. E allora se le cose stanno così, nella mia lettura il liberalismo è una parte importante degli ultimi 4-5 secoli, ma è anche in un certo senso la modernità perdente, la modernità sconfitta. Perché? Perché cos'è stato in Novecento? Il Novecento è stato fondamentalmente il secolo del trionfo di ciò che liberale non è. È stato il trionfo, come dire, dell'ideologia totalitaria, nella versione nazista, nella versione socialista, è stato il trionfo anche nel campo dei regimi rappresentativi democratici di un progressivo interventismo, di un'espansione del potere statale. Pensate che in Italia, ad esempio, noi abbiamo conosciuto un aumento di ben 5 volte della spesa pubblica dell'intervento statale, del prelievo fiscale e così via. Quindi il potere del ceto politico burocratico sulla società è cresciuto 5 volte. Sul piano giuridico evidentemente il liberalismo è una forte difesa della proprietà dello scambio, come dicevo prima, e in questo senso io credo che il liberalismo sia caratterizzato in larga misura dall'incontro di due tradizioni distinte, ma non necessariamente opposte. Da un lato la tradizione del diritto naturale, cioè l'idea che gli uomini hanno dei diritti naturali, che sono connaturati agli uomini, che non vengono dallo Stato, che non vengono da leggi, ma che ogni uomo ha in quanto essere umano, e al tempo stesso però la caratterizzazione, la definizione di questi diritti è in larga misura una cosa che viene definita, elaborata storicamente nei diversi contesti. Sul piano economico evidentemente per me il liberalismo è essenzialmente la difesa dell'ordine spontaneo, dell'economia naturale, quindi del mercato, di fronte alla pretesa di un'economia costruita, di un'economia pianificata. L'idea come dire che la complessità della nostra società avanzata è possibile solo attraverso decisioni locali, prese da ognuno di noi come imprenditore, come consumatore e così via, laddove la follia del Novecento, soprattutto nelle sue versioni estreme, staliniane, leniniste, polpottiane, è quella appunto di una società pensata come la proiezione delle idee che questo per soggetto ha nella propria testa e quindi liberale è ciò che difende il mercato dal punto di vista economico contro la pianificazione, contro la redistribuzione, contro la regolazione. Sul piano politico liberale è ciò che in un modo o nell'altro cerca di individuare delle istituzioni che limitino il potere. Allora qui chiaramente le possibilità sono diverse, una grande scommessa della tradizione liberale e qualche autore che io ho ontologizzato su questo ha investito molto, è la tradizione del costituzionalismo evidentemente. Vi dicevo già prima che nella prima metà, nei primi decenni dell'Ottocento, di fronte ai regimi della restaurazione, l'atteggiamento dei liberali è quello di chiedere statuti, cioè di chiedere garanzie, di chiedere una limitazione al potere e l'idea di un potere limitato attraverso una superlegge che limiti la possibilità di fare legge o di fare certi tipi di legge. Autori come Montesquieu, Constant, Ocville, di fatto si muovono in questa prospettiva. Ora questa prospettiva interessante, a mio parere, credo che traspaia molto bene dal libro, ha in sé qualcosa di paradossale. Ha in sé qualcosa di paradossale perché immaginare una sovranità limitata è qualcosa di molto difficile. C'è una bella battuta di un autore contemporaneo, d'origine ungherese, ma che ha scritto tutti i suoi libri in inglese, che è di fatto anglicizzato, si chiama Anthony de Giaset, il quale parlando della Costituzione una volta disse che la Costituzione è una generosa utopia liberale, si vuole mettere una cintura di castità al potere, sapete che la cintura di castità è nel tempo delle crociate, i crociati andavano, cercavano di limitare l'attività sessuale della moglie che rimaneva a casa. Il problema è che, dice De Giaset, i politici hanno la chiave. Possiamo anche mettere la cintura di castità. I politici hanno la chiave cosa vuol dire? Che possono ignorare la Costituzione, interpretarla, modificarla e così via. Non dimentichiamo mai che uno dei peggiori regimi, se non il peggiore che la storia abbia conosciuto, cioè il nazismo in Germania, si costruisce a partire da una istituzione, da una Costituzione qua di Weimar e ita arriva al potere in maniera del tutto legale, attraverso elezioni e così via. È chiaro che allora esiste anche un'altra prospettiva all'interno della tradizione liberale, che è quella che non tanto crede a una sovranità che si limita, che è un paradosso, perché se il sovrano è sovrano come può essere limitato? Il sovrano presuppone la capacità di decidere quando c'è stato di eccezione e decide stato di eccezione, quindi implica un'assolutezza per definizione. L'altra prospettiva è quella che crede invece nella concorrenza istituzionale, nel pluralismo istituzionale. Questi autori sono gli autori più estremi che trovate nel testo, prima ne ho citato uno, cioè Lisanne de Spooner, che sosteneva ad esempio che la Costituzione americana era invalida, ed era invalida perché poteva essere invalida per quelle che l'avevano discussa e sottoscritta allora, ma erano tutti morti e non potevano certo pretendere di vincolare l'esistenza di persone venute dopo, per cui c'è una bella frase di Jefferson, di questa tradizione che dice che le mani dei morti non possono disporre dell'esistenza dei vivi. C'è qualcuno che è esistito decenni fa, che ha fatto delle cose e non può certo pensare di vincolare per sempre la nostra esistenza. Ma altri autori sono Spencer, un autore importante di secondo novecento, come Murray Rothbard che è il teorico probabilmente più importante, del cosiddetto anarcho-capitalismo. E chiaramente in questa tradizione, sia nella tradizione costituzionale, del liberalismo costituzionale, che nella tradizione invece che propone una concorrenza tra istituzioni come meccanismo o se volete come logica per limitare il potere, per contenere il potere, è chiaro che è ben presente una critica della democrazia, per come la conosciamo oggi. È forte l'idea che quando noi oggi parliamo di democrazia, di cosa stiamo parlando? Non stiamo già parlando della democrazia di un'associazione a cui noi abbiamo liberamente aderito, cosa che un liberale accetta tranquillamente, ma stiamo parlando di un sovrano che ci impone in qualche modo una logica democratica e che ci impone comunque di aderire a questo gioco a cui noi non abbiamo scelto mai di partecipare. E quindi, come dire, in questa tradizione liberale, come già da altro canto nell'Ottocento, la democrazia è davvero un problema molto serio. Per quale motivo? Perché non soltanto quando parliamo di democrazia, in realtà usiamo un linguaggio un po' scorretto perché dovremmo dire Stato democratico, dove il sostantivo è molto più importante dell'aggettivo, ma soprattutto perché l'avere da parte della sovranità e dello Stato adottato la democrazia ha permesso un'espansione appunto del potere che lo Stato in precedenza non aveva mai conosciuto. Cioè, dotatasi di una legittimazione popolare e così via, la vecchia sovranità dei Luigi XIII, dei Luigi XIV, ha potuto avere un controllo sulla società che i vecchi sovrani nemmeno si sognavano certamente di poter avere. E quindi qui è evidente che all'interno del dibattito noi abbiamo a che fare con due egualitarismi, se volete. Il liberalismo che ho cercato di interpretare nel mio libro è un liberalismo che in definitiva difende un certo tipo di egualitarismo. E qual è? Nessuno di noi ha diritto di essere sovrano di qualcun altro. Nessuno di noi può accampare la pretesa di essere sovrano di qualcun altro. Ad dove invece la tradizione democratica dice no, lo Stato è sovrano, gli uomini sono tutti uguali, nel senso che tutti hanno diritto a un voto nel gestire questa sovranità di alcuni uomini su altri uomini. Ma capite che sono due idee di eguaglianza molto diverse. Un conto è dire che è illegittima la sovranità e il liberale tendenzialmente pensa a questo, anche se magari non lo riconosce fino in fondo. Il liberale, a mio parere, il liberale autentico ha sempre una vena anarchica, cioè ritiene che la coercizione sia qualcosa di negativo, che la sovranità sia qualcosa di in sé ingiusto. E quindi poi, magari con molto realizzazione, il liberale autentico si preoccupa di limitarla, non necessariamente immagina soluzioni estreme e così via. Dall'altro lato invece la democrazia ha accettato pienamente la sovranità e semplicemente dice che tutti noi abbiamo la nostra quota di potere nell'opprimere al prossimo, direbbero liberali, nel partecipare a un meccanismo che di fatto finisce per essere una difesa della vecchia sovranità, anche se si parla oggi di sovranità popolare o parlamentare e non già di sovranità monarchica. Che cosa discende dall'aver adottato come griglia la parte mia questo tipo di lettura del liberalismo, la politica giuridica, politica, economica? che per me liberale è appunto come ho già detto, significa nutrire, liberale è colui che nutre una avversione per il potere e ritiene che sia importante impegnarsi nel contenere il più possibile potere. La libertà è tanto maggiore quanto meno il potere è presente nella società. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che liberale è colui che è impegnato in una forte difesa del diritto. Il diritto è l'elemento cruciale del liberalismo. Il liberale può versare lo Stato ma esattamente perché difende il diritto, perché ritiene che diritto è Stato, c'è qualcosa di completamente diverso. Questo è un discorso difficile da fare oggi perché noi tendiamo a pensare che lo Stato c'è il diritto e Dio c'è lo Stato e in realtà per il liberale non è così. Il liberale stende conto che lo Stato e l'espansione dello Stato ha progressivamente comportato una marginalizzazione della proprietà, della libertà di contratto e così via. E poi altro elemento importante è una forte valorizzazione della società, della capacità di tutti noi di interagire con gli altri, quindi della comunità, della famiglia, dei gruppi religiosi. Questo tra l'altro mi permette di rilacciarmi a quello che dicevo prima. Un liberale autentico, che sia religioso o no, soggettivamente non è importante, è orientato a valorizzare le esperienze forti perché si rende conto che le esperienze forti, anche di tipo religioso, sono un elemento di resistenza di fronte al potere. Faccio solo un esempio tanto per capire. In America da anni si è sviluppata una tendenza molto forte, ormai riguarda milioni di persone, che si chiama homeschooling. Ci sono milioni di persone che non mandano i bambini nelle scuole pubblico-private, ma che gestiscono in famiglia o con gruppi di famiglie l'educazione dei figli. È un movimento importante, molto legato per certi aspetti, non solo ma in larga misura legato al mondo evangelico fondamentalmente, di persone che non si riconoscono molto nella cultura degli insegnanti americani, quindi non vogliono, come dire, mandare loro figli in scuole dove avrebbero un tipo di cultura che non è condivisa e che decidono di farsi carico in prima persona non solo dell'educazione ma anche dell'istruzione ai figli. Sapete da dove nasce tutto questo? Questo nasce da una sentenza della Corte Suprema che fu chiamata a decidere in merito agli amis. Gli amis, sapete, sono quella comunità anabattista. Gli amis, per ragioni evidenti legate allo sopravvivenza, fecero resistenza di fronte alla possibilità, all'obbligo, perché fu interrotto l'obbligo in America fino ai 18 anni è distruzione per i giovani, resistenza di fronte al fatto di mandare i loro figli nelle scuole, perché si andavano conto che se i loro figli fino ai 18 anni fossero andati nelle scuole normali, l'universo amis sarebbe sparito, perché sarebbero stati totalmente normalizzati dalla cultura prevalente in America e ovviamente furono condannati, ma fecero ricorso ad arrivare fino alla Corte Suprema e la Corte Suprema decisa a favore della libertà di educazione delle famiglie e la battaglia appunto di questi gruppi minoritari fu una conquista di libertà per tutta la società, ma in assenza degli amis, che piacciono meno, perché sono davvero molto bizzarra, e in assenza degli amis l'America non avrebbe tutelato questo diritto fondamentale, cioè il primato della famiglia rispetto appunto al governo nell'educazione, nell'educazione dei figli. È chiaro che quindi valorizzazione la società vuol dire valorizzazione di questo, valorizzazione anche delle imprese, le imprese sono di fatto come dire delle realtà che emergono spontaneamente attraverso i contratti, c'è l'iniziativa di qualcuno che trova dei collaboratori, che stipula i contratti, che realizza un universo che prima non esisteva, che è appunto un'attività economica. Valorizzazione anche, e questo può sembrare bizzarro, delle corporazioni, perché no? Delle associazioni di categoria, se non diventano evidentemente degli strumenti per introdurre nuove regole a carico di tutti, limitazioni, etc. È chiaramente una forte difesa della competizione, cioè della possibilità di accedere a qualunque mercato, dei beni e servizi e anche di quei beni e servizi, dei servizi in particolare, che sono del tutto al di fuori del mercato, come appunto i servizi di protezione, di giustizia e così via. Cosa c'è sullo sfondo di questa mia riflessione? Ovviamente c'è una certa idea della libertà e del potere, vengo qui alla parte più teorica, perché? Perché io credo che il dibattito possa essere impostato in maniera chiara se capiamo un punto che mi pare cruciale, cioè che noi abbiamo a che fare oggi con due posizioni, in merito al potere e quindi anche alla libertà. C'è una posizione ortodossa, che è largamente maggioritaria, che individua essenzialmente il potere in forma tripartita. Tra l'altro questo è molto bizzarro perché rinvia tutta una serie di tripartizioni come quella di Dumézil o quella della società medievale. Si dice che c'è un potere politico, il cavaliere, il guerriero, che c'è un potere economico, il lavoratore e c'è un potere culturale, ideologico, cioè il sacerdote. E tutti questi tre ruoli, tre funzioni fondamentali della società, che tanti antropologi, gli studiosi hanno rinvenuto nel tempo, sarebbero per la politica. Cosa vuol dire potere politico? Potere politico vuol dire, cosa sappiamo? È il potere della coercizione, è il fatto che c'è qualcuno che gestisce la forza e gestendo la forza è in grado, come dire, di imporre la propria volontà agli altri. Ma questo è il potere per i liberali, per i liberali come intendo io. Per i liberali il potere è il potere politico, non necessariamente solo dello Stato, può anche essere di un'organizzazione privata, che però utilizza meccanismi di questo tipo. Per intenderci, una rappresentazione straordinaria del potere l'abbiamo nel padrino, quando Marlon Brando dice faccio una proposta alla quale non può dire di no, che è il tipico atteggiamento dello Stato, ogni volta che ne ha fatto una legge è una proposta alla quale non possiamo dire di no, non possiamo sottrarci, se c'è una legge non possiamo dire no, non mi piace. Questo è il potere nella visione liberale, è per definizione a coercizione, quando riceviamo la richiesta, l'ingiunzione a parte dello Stato di pagare le imposte non possiamo sottrarci. Per la visione ortodossa prevalente, perché lo ripeto il liberalismo è una tradizione importante nell'Occidente ma sconfitta, il potere non è solo quello, il potere è anche economico, perché? Perché nella visione dominante, che tutti noi in qualche modo condividiamo in me, lo scambio non è una cosa del tutto accettabile, l'idea prevalente è che lo scambio è uno scambio tra diseguali ad esempio, allora se uno è più ricco e l'altro è più povero, è chiaro che chi è più ricco sta opprimendo un po' quello povero, in realtà siamo sempre diseguali, gli scambi hanno luogo perché abbiamo posizioni diverse, non ci sarebbe scambio se le posizioni non fossero diverse. E poi un altro argomento è, no ma c'è il potere nell'economia perché ci sono i monopoli e quindi il monopolio sarebbe una forma, come dire, un'istituzione, una realtà, tra l'altro per alcuni onnipresente, per alcuni l'economia libera produce costantemente monopoli che quindi sono meccanismi oppressivi. Oppure, una visione molto importante anche questa, la povertà stessa sarebbe una condizione di assenza di libertà. Tutta la grande retorica, la grande filosofia politica, Rawls ad esempio, volta a redistribuire, nasce appunto dall'idea che essere libero di muoversi ma non avere le risorse per comprare il biglietto del volo vuol dire non essere libero, cioè la povertà in quanto tale è assimilata all'assenza di libertà. Nel discorso marxiano si distingue tra libertà formale e libertà materiale. La libertà formale è quella dei liberali, ma noi vogliamo invece la libertà materiale, cioè che davvero uno possa muoversi o che abbia anche le risorse, quindi che abbia le risorse per curarsi, per istruirsi, eccetera. In qualche modo il welfare è, se volete, la grande traduzione, il senso istituzionale di questa idea di libertà e quindi anche di potere. e sul piano culturale c'è l'idea che i media sono soggetti di potere, che le realtà ideologiche o religiose sono soggetti di potere, che la massoneria e la chiesa sono soggetti di potere e quindi che lo Stato, ecco il problema fondamentale, lo Stato deve candidarsi a tutelarci dal potere economico e dal potere ideologico e culturale. Nella visione ortodossa la visione tripartita, cioè c'è un potere politico, c'è un potere economico, c'è un potere culturale, finisce per legittimare di fatto il potere politico come garante della società, una società che è minacciata, una volta dalla Chiesa, una volta dai media, dai televisioni, una volta dai monopoli, una volta dalla mancanza di risorse e così via. Allora c'è del vero in questo, ma c'è del vero in un'accezione molto particolare, è chiaro che i grandi patrimoni ad esempio nella situazione attuale possono facilmente convertirsi in potere, è quello che si chiama il chronic capitalism, cioè il capitalismo corrotto. Se io ho enormi risorse e sono ad esempio l'industria che produce automobili Nord Italia, Nord Ovest, posso riuscire nell'arco di alcuni decenni a ottenere dal potere politico tutta una serie di benefici. Certo, io posso trasformare le mie risorse economiche in potere politico che diventa poi per me risorse economiche in qualche modo ottenute dal resto della società. questo vale per il cosiddetto potere economico, vale anche per il potere culturale, se io sono una grande agenzia culturale, che sia la massoneria, la Chiesa, qualvolta voi, o dei media, posso per la mia influenza che ho sul potere politico ottenere tutta una serie di protezioni o fermare una certa idea e così via. Ma quello che i liberali dicono è che la ricchezza e l'economia in quanto tale non sono un potere in sé. La grande impresa può propormi i suoi prodotti, ma non può impormi di comprarli. La Chiesa può propormi di andare a messa, ma non può impormi di andare a messa. Nel momento in cui mi imponesse andare a messa diventa un potere politico, deve disporre in qualche modo del potere politico. D'altro canto, se guardiamo anche alle nostre vicende negli ultimi decenni, pensate al tema delle televisioni, il potere delle televisioni. Il potere delle televisioni è un potere, perché certamente è anche un potere, ma perché si sono creati dei meccanismi, pensate solo alla legge Mammi, che hanno chiuso il mercato. Se la legge Mammi non avesse detto che ci possono essere in Italia solo 12 televisioni a livello nazionale, per anni siamo andati avanti a questi termini, è chiaro che avremmo avuto come dire un mercato più ampio e quindi anche una minore capacità di impatto di alcuni soggetti, di altre società. Pensate alla religione di Stato, soprattutto nei paesi nordici, ma comunque tutte le intersezioni tra dimensione religiosa e dimensione politica. Hanno avuto luogo perché c'era il potere politico e perché alcune agenzie culturali e religiose hanno potuto utilizzare quel potere politico. Pensate al protezionismo, che è un tipico classico utilizzo da parte di alcuni gruppi economici del potere politico per i propri fini. Pensate agli aiuti pubblici alle imprese e così via. Quindi la tesi forte, secondo me, su cui i liberali devono insistere è che la ricchezza e la cultura, l'universo dell'economia e l'universo delle idee non sono di per sé realtà aggressive. Avere delle risorse e avere delle idee non significa avere un potere sugli altri. Può significare offrire delle opportunità, avere una certa autorevolezza, ma diventano potere e quindi limitazione della libertà solo quando si innestano sul potere pubblico, cioè sulla capacità di far ricorso alla coercizione. La visione ortodossa è una visione fortissima e una visione vincente, tant'è che è molto difficile che le idee che ho presentato vengano accolte proprio perché è difficile per noi separare i diversi ambiti. Non siamo in grado, come dire, di cogliere lo specifico della dimensione economica, lo specifico della dimensione culturale. Però certamente credo che si sia in grado di cogliere una cosa, cioè che è davvero paradossale che per tutelare le nostre libertà non si pretenda di fare appello a quello che è ed è stato il principale negatore delle nostre libertà, cioè lo Stato. Alla luce di quello che è successo negli ultimi secoli e in particolare nel corso del Novecento. Credo che davvero sia irragionevole pensare che lo Stato possa essere il difensore degli orfani e delle vedove quando, la storia ci insegna, è stato il maggior produttore degli uni e delle altre. Che lo Stato abbia il compito di limitare il nostro controllo sulla proprietà e il nostro confronto intellettuale, cioè l'area dell'economia e l'area della cultura, è qualcosa evidentemente che un liberale non può accettare. Vengo alla mia conclusione, ed è una conclusione che vuole essere legata al nostro tempo. Dobbiamo prendere atto appunto di quello che dicevo all'inizio, cioè che il liberalismo è stata una parte importante della nostra storia, ma una parte sconfitta. Però dobbiamo anche prendere atto di una cosa, cioè che il Novecento è stata un'epoca di fallimenti fondamentalmente. Abbiamo conosciuto il fallimento della pace con le due grandi guerre, abbiamo conosciuto il fallimento del socialismo realizzato con il cruro amore di Berlino e ora stiamo conoscendo il fallimento del welfare, cioè degli stati democratici interventisti. Quello che stiamo vivendo in questo periodo con la crisi della Grecia, dell'Italia, della Spagna, della Francia, è fondamentalmente questo. C'è un nuovo muro di Berlino che sta per crollare, cioè lo statalismo occidentale non è in grado di reggere. L'area parassitaria della nostra società è cresciuta troppo e quando la persona fiscale arriva a un certo livello i sistemi crollano, quando la regolazione arriva oltre a un certo livello la società crolla. Chi studia la storia romana, ad esempio, trova delle analogie interessanti con quello che sta succedendo da noi. Che fare in questa situazione? Ci sono alcune cose da fare, non tantissime. La prima è chiaramente una battaglia culturale, per cui incontri come questi credo che sono importanti. Cominciare a ragionare, a prendere atto che de-responsabilizzare la società, continuare a prestare fede alla teologia politica che si imposta in questi secoli, cioè la sacralizzazione delle istituzioni che la sovranità rappresenta, è qualcosa di terribilmente pericoloso, sbagliato, che distrugge il futuro e che obbliga sempre più i nostri giovani ad esempio a emigrare. Ed è chiaro in questo senso che c'è un ruolo fondamentale dell'elite intellettuale. È importante che ci sia un ricambio proprio di prospettiva dell'elite intellettuale. Se avremo nei prossimi decenni un'intellettualità diversa, è chiaro che potremo avere anche in prospettiva migliori. C'è poi chiaramente, secondo punto a mio parere, l'esigenza di una resistenza di fronte a questa situazione. Bisogna che i perdenti di questa realtà, di questo mondo, si organizzino. C'è bisogno di una resistenza civile e economica, c'è bisogno che ci sopponga e si organizzi. Non è facile perché non è facile organizzare disorganizzati. Lo Stato agisce sempre privilegiando interessi concentrati e distribuendo gli oneri e poi sticipando i costi, pensate al debito pubblico. Allora è chiaro che noi siamo quasi sempre nella parte dei perdenti in minima misura, offrendo un contributo minimo e ogni tanto tocca a noi di godere il beneficio di essere i beneficiari di un ingiusto privilegio più delle volte. Però è difficile disorganizzare questo tipo di resistenza, però è possibile farlo. Le società che sanno meglio resistere di fronte al potere sono quelle che ogni tanto prendono del tè e lo buttano in acqua, come è successo con il Boston Tea Party. Che ci sia una resistenza di fronte a un'oppressione troppo alta, a una spesa pubblica fuori controllo e così via. C'è poi un'altra cosa molto importante da tenere in considerazione, proprio perché credo fermamente che sul piano istituzionale, più che una limitazione di tipo costituzionale sia importante una concorrenza tra istituzioni, credo che una battaglia cruciale sia da fare di fronte a quello che potremmo indicare con il termine di globalismo giuridico. Perché? Perché non solo noi stiamo conoscendo la crisi degli Stati nazionali oggi, ma in questa crisi le classi politiche stanno cercando di uscire, spostando le competenze, i poteri ancora più lontano da noi. Il progetto dell'Europa Unita, di uno Stato in prospettiva di 600 milioni persone è appunto quella di una riduzione ulteriore della concorrenza, non più 25, 28 o 30 paesi con diverse regole, ma un unico paese in qualche modo sempre più unificato e sempre più ovviamente del tutto fuori dal nostro controllo. Quindi bisogna capire la minaccia in atto, quindi che a livello europeo, ma addirittura a livello globale, perché è chiaro che l'ONU si candida in prospettiva a diventare una sorta di federazione, di federazioni, eccetera. Ma anche io direi capire il fallimento epocale dello Stato nazionale e credere, come dire, nella necessità di una disgregazione degli Stati, cioè avvicinare sempre più il potere dei cittadini, responsabilizzare sempre più le comunità, mettere in concorrenza fra di loro. Credere, come dire, nella cultura dell'indipendenza e non della dipendenza, della capacità appunto di amministrarsi, gestirsi da sé in concorrenza con gli altri. A me capita da qualche tempo di frequentare un paese, sono di Brescia, è abbastanza vicino a casa mia, che è la Svizzera e frequentare la Svizzera apre un po' gli occhi, per un motivo molto semplice, perché la Svizzera è un paese di 8 milioni di abitanti, che è più piccolo da Lombardia e che è diviso in 26 cantoni, cioè 26 Stati con loro tassazione, con loro giurisdizione. Che un paese, come dire, storicamente così povero è insignificante, diciamo, parlando all'Italia possiamo dirlo, come la Svizzera. Se oggi è un paese così civile e economicamente avanzato, si spiega solo in un modo, perché nessun governante in Svizzera è in grado di poter fare ai propri governati, quello che i governanti francesi sono andati a fare ai francesi, quello che i governanti italiani sono andati a fare, perché? Perché si sposta ai 5 chilometri e sei in un'altra giurisdizione. I costi di uscita, abitando a Uri per andare a un tervallo, sono minimi, la lingua è la stessa, ci sono i pochi chilometri, eccetera. E quindi questa concorrenza tra istituzioni obbliga a minor sprechi, minori ingiustizie, minori parassitismo e di fatto nel tempo genera, come dire, anche una cultura civica diversa. È davvero scioccante per un lombardo come me andare in Ticino, perché il Ticino è da tutti i punti di vista una specie di periferia, se volete, di Milano, ma è completamente diverso. È completamente diverso perché le istituzioni nel tempo di fatto generano, come dire, comportamenti, un civismo, delle cose di tutt'altro tipo. Allora ecco che avvicinare il potere alla gente vuole dire indebolire il potere, vuole dire renderlo più facilmente controllabile. In definitiva, e qui chiudo, a me sembra chiaro che il liberalismo si ponga come obiettivo la tutela dei diritti individuali e individui essenzialmente come strumento la concorrenza istituzionale, cioè la possibilità di opporre potere al potere. Questo può voler significare qualcosa sul piano territoriale, come dicevo prima, e cioè tanti territori, ognuno dei quali è autonomo, responsabilizzato, eccetera. Può significare qualcosa anche a livello, qui chiudo, non territoriale. Questo è un tema molto interessante, però meriterebbe da solo tutto il seminario. Pensate solo al tema della moneta. È un tema affascinante questo, perché c'è la concorrenza tra territori, ma c'è anche una concorrenza che va al di là dei territori. Da qualche tempo si parla di monete elettroniche, si parla di Bitcoin, ad esempio, ma ormai stanno sorgendo tantissime altre monete sulla falsariga del Bitcoin, che si propongono a tutti noi come alternative rispetto alla moneta fiduciaria di Stato, che sia l'Euro o che sia la sterlina. E questa è un'altra strada fondamentale, perché non c'è solo la concorrenza dei territori, c'è anche una concorrenza che va al di là dei territori. Questo è tanto più importante in una società come la nostra, in cui l'informatica ha un ruolo fondamentale, in cui la capacità di muoversi è sempre maggiore, in cui l'interconnessione è sempre maggiore. E allora ecco che la situazione, quello che voglio dire in definitiva, la situazione è veramente triste da tanti punti di vista. Siamo davvero alla fine di una storia complicata e siamo, come dire, in un'Europa che da parecchio tempo sta declinando e che sta perdendo posizioni e in particolare in Italia siamo in un certo senso nell'epicentro di questa crisi, ma le possibilità ci sono, la storia non si ferma mai. Credo che il liberalismo abbia ancora tante cose da dire e credo che stia a noi in definitiva cercare di tradurre le potenzialità che la teoria liberale ha in qualcosa di effettivo, di qualcosa che può davvero servirci a da un lato essere più liberi e di conseguenza, io dico anche, poter vivere in una società più civile e più prospera. Vi ringrazio per l'attenzione.